Calcio, pugilato, basket, tennis e motori in sommario. Apriamo con il calcio e con la lucchese attesa sabato dalla delicata trasferta al Mannucci di Pontedera. Attenzione al Pontedera, vero che Granata e Di Maraia vengono dal rovescio di Gubbio dove sono stati sbranati dei lupi e gubini, ma altrettanto assodato che anche quest'anno il direttore generale Paolo Giovannini pare aver costruito con la proverbiale abilità una compagine giovane ma interessante, in grado di centrare con largo anticipo la salvezza che da quelle parti è come aver vinto il campionato. Occhio al Pontedera perché in Valdera si ha la sensazione non solo quella che si viva il calcio e il campionato in modo più soft e meno stressante di quanto non pretende e non voglia una piazza di livello e tradizione come il Lucca. Insomma, la cosiddetta forza e dei nervi distesi per una squadra che al netto della batosta di Gubbio ha pur sempre 11 punti in classifica, 4 in più della lucchese e quindi una posizione di relativa tranquillità, ove si consideri che la strada verso il traguardo è ancora lunghissima, estenuante e costellata da mille difficoltà. Tre annotazioni finali in casa Pontedera. Il grande ex, Marcos Especie, la cui presenza è in dubbio, mentre sarà out sicuramente lo squalificato Matteucci. Ed infine, attenzione al rendimento casalingo della squadra di Maraia, che finora al Mannucci è stata quasi un rullo compressore. Tre vittorie, un pareggio, otto reti segnate e solo due subite. Sul fronte lucchese prosegue la preparazione ad un match che aprirà un miniciclo di tre partite in sette giorni. Dopo la sconfitta con la Vispesar e vista la situazione di classifica, la squadra rossonera è chiamata ad una provante e sollecita reazione. Tra l'altro, la tifoseria si sta mobilitando, già venduti oltre 100 biglietti, per non far mancare il proprio sostegno a Colette e compagni. Già, perché è nei momenti difficili, e questo lo è, che si vede l'attaccamento verso la squadra, ma su questo non avevamo dubbi. L'augurio è che non ne abbia neppure Guido Pagliuca, che è ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Fermo restando le attenuanti di aver iniziato la preparazione con ampio ritardo e di una squadra rifatta di sana pianta, è l'ora di cambiare marcia. Anche sul piano tattico, il tecnico rossonero ha provato a mischiare le carte. Ad esempio, contro la Vispesar si è inventato Visconti trequartista. Chiaro che l'asticella deve alzarsi da parte di tutti e che alcuni giocatori, forse troppi, sono rimasti al di sotto del loro rendimento e delle loro possibilità, con poche eccezioni. Il resto lo faranno la tranquillità e la fiducia che la Pantera potrà ritrovare, solo conquistando bei risultati e suonanti puntoni. Solo quello permetterà davvero di risalire la china e di lavorare con maggiore tranquillità. Passiamo al pugilato. La foto che stiamo per proporvi ci porta alla Dispol, in provincia di Roma, ed è appena finita la seduta di guanti che Marvin De Mollari ha sostenuto con Michael Magnesi, campione del mondo EBO dei pesi leggeri. Ottima prova di Marvin, seguito dal maestro Giulio Monselesan, che a parte nella settima ripresa è stata all'altezza del campione del mondo. Una prestazione confortante per Alfiere della Pugilistica Lucchese, che venerdì pomeriggio rientrerà a Roma. Ed era attesa da un paio di settimane, finalmente arrivata. La vediamo nella foto che stiamo per proporvi. Parliamo di Sidney Whiz, la 26enne giocatrice americana del Basket Lemura, che è sbarcata giovedì pomeriggio intorno alle 16 all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ad attendere al direttore generale del GESAN Lemura, Ennio Zazzaroni. La Whiz dovrebbe esordire già domenica prossima nella gara interna con il neopromosso Acronos Moncalieri. Jessica Pieri, siamo al tennis, era impegnata negli ottavi di finale del torneo di Lagos in Portogallo. La 24enne tenista lucchese è stata sconfitta in 2-7, 6-1, 7-5, dalla francese Jessica Ponchet, testa di serie numero 2 del tabellone. Adesso Jessica rientrerà in Italia. E' domenica attesa dal derbissimo con il forte dei marmi di Jasmine Paolini. Siamo ai motori perché è un fine settimana molto importante. Paolo Andreucci che prepara l'ultimo appuntamento in Livurna, dove si giocherà il titolo tricolore terra con scandola. Affiancato da Rudy Briani, dopo il secondo posto assoluto in Sardegna, al diciottesimo rally dei Nuraghi del Vermentino, Paolo Andreucci, portacolori della scuderia M33 Skygate, torna tra le strade bianche di Cingoli al Rally delle Marche per ritrovare la scoda Fabia R5 Evo 2 del team H Sport di Silvio Lazzara e per testare nuove soluzioni prima del decisivo appuntamento tricolore che si terrà in Toscana il 6 e 7 novembre. Con un secondo posto nel campionato italiano Rally Terra, alle spalle di Umberto Scandola ed un coefficiente maggiorato di 1,5, sarà il rally di Burna Terra a decretare il vincitore del 2021 e l'Asso Garfagnino è pronto a mettere in campo tutte le sue armi e la sua classe per portare a casa l'ennesimo scudetto, anche se la sola possibile vittoria nell'ultima gara potrebbe non bastare. A fronte della novità del percorso del rally delle Marche, due prove speciali diverse da effettuare tre volte, format che ricalca le edizioni passate. Viene invece confermata la logistica del recente passato con il quartier generale che rimane a Cingoli, siamo in provincia di Macerata, così come anche il parco assistenza previsto nella zona degli impianti sportivi, la partenza e l'arrivo. La lunghezza totale della gara sarà di 215 chilometri, di cui 47 saranno di prove speciali. Al via con il numero 2 ci sarà anche Umberto Scandola per un vero e proprio ghiotto antipasto della sfida tricolore di novembre. E anticipo che nel TG Sport di venerdì sera sentiremo direttamente anche Paolo Andreucci. Intanto ancora motori, weekend di grandi soddisfazioni per HP Sport RRT con l'incoronamento di Christopher Lucchesi Junior e Titti Ghilardi per la conquista dopo il Cira due ruote motrici, anche del trofeo Peugeot 208 con una gara di anticipo. Chiudiamo con il Karate, eccellente prova della Body Mind Karate Gossi Monte Carlo nella fase regionale di qualificazione a campionati italiani assoluti di Kumite. Combattimento dai 17 ai 35 anni. Ben tre atlete, le vediamo in questa foto, Sharon Guiscardi, Anna Raffelli e Melania Bellinelli si sono qualificate per le finali nazionali. A loro dobbiamo aggiungere anche Angelica Ulivi che vi accede di diritto dopo il terzo posto, la medaglia di bronzo al tricolore del 2020. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte.